Ci sarebbero elementi non chiari nella morte di Antonio Di Paolo. Il PM Vincenzo Donofre ha disposto l'autopsia sul corpo del 42enne di Nusco, ritrovato senza vita nelle montagne tra Lioni e Bagnoli Irpino, dove l'uomo si è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Questa mattina la procura di Avellino ha affidato l'incarico al medico legale Alessandro Santurro. Il gesto estremo messo in atto dall'uomo richiede degli approfondimenti. Perché il 42enne, sposato e padre di due bambine, si è ucciso? E' questa la domanda che tormenta i familiari dell'operaio forestale, la moglie, i genitori e il fratello, quest'ultimi assistiti dall'avvocato Emilio Cordasco. Prima di lunedì sera, quando Antonio Di Paolo si è allontanato da casa senza farvi più ritorno, il 42enne non aveva mai mostrato alcun tipo di malessere. Aveva un lavoro, una bella famiglia e tanti amici. Nessuna ombra nella sua esistenza, nessuna preoccupazione tale da poterlo spingere a togliersi la vita. L'autopsia sarà svolta domani mattina, oltre all'esame irripetibile. L'indagine si avvarrà anche di dichiarazioni acquisite attraverso l'ascolto di amici e colleghi dell'uomo, oltre che dei familiari. Anche il telefonino del 42enne sarà oggetto di approfondimenti per ricostruire le ultime ore di vita di Antonio Di Paolo, morte sulla quale da questa mattina è stata aperta un'inchiesta.